Alle elezioni amministrative di domenica 10 giugno, scegli Fratelli d'Italia. Scegli la coerenza di una forza politica che non ti ha mai tradito. Scegli la difesa della famiglia, l'incentivo alla natalità, la volontà di garantire sicurezza per i cittadini, di sostenere quegli autentici eroi che sono oggi le forze dell'ordine. Scegli di aiutare i giovani e i più deboli come gli anziani, i disabili, i milioni di disoccupati dimenticati. Scegli di valorizzare i prodotti italiani di qualità e il lavoro e l'impresa italiana. Fratelli d'Italia è tutto questo. È un movimento fatto di persone oneste e capaci che conoscono ogni angolo degli 8.000 comuni italiani. E le liste di Fratelli d'Italia ci sono sempre in queste elezioni amministrative a sostegno dei candidati di centrodestra. Perché Fratelli d'Italia è anche quel partito che è rimasto sempre dalla stessa parte. E se vuoi difendere quella coerenza e se vuoi che quel centrodestra rimanga confatto anche a livello nazionale, votando il 10 giugno per Fratelli d'Italia, mettendo una croce su questo simbolo, farai anche questo. Grazie